La pasticceria Leoni, l'originale, situata a fermo in via Baccio, offre ai suoi clienti uno straordinario assortimento di pasticceria e dolci, adatti ad ogni tipo di avvenimento. In occasione delle festività natalizie, torroni e panettoni artigianali e confezioni personalizzate con tante prelibatezze. La pasticceria Leoni, l'originale, ha impresso nella produzione tutta la sapienza, la passione e l'altissima qualità che li contraddistingue, nel creare dolcezze e non solo, come gustosissimi aperitivi e pranzi. Pasticceria Leoni apre le porte al Natale con il villaggio di Santa Claus, dove trovare tantissimi addobbi e idee regalo. Pasticceria Leoni, l'originale, situata a fermo in via Baccio, offre a fermo in via Baccio, offre a fermo in via Baccio, offre a fermo in via Baccio. Pasticceria Leoni, l'originale, in via Baccio, offre a fermo 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 in via Baccio.